Cazzo vi devo dire, cosa vi devo dire? Cosa devo dire? Prova di forza dell'Inter, prova di forza, perché quando tu ti trovi sul 3-0 dopo un tempo in una partita che non conta niente per te, dove stai giocando con 9 undicesimi dei panchinari, che avevano fatto anche una partita imbarazzante per Giunta, ma poi la ribalti e non ne avevi bisogno, non potevi stare lì, mettere l'amaca, stare con un succhino, bertelo, perché tanto potevano farti anche 7 gol e non te ne doveva fregare niente, invece loro l'hanno voluta ribaltare. Entrati dentro due o tre titolari, la partita è cambiata e l'hanno ribaltata, è una prova di forza, di carattere, di orgoglio, anche quando non serve perché la partita per il primo posto rimane comunque a San Siro, Inter Real Sociedad. È questo che uno vorrebbe vedere. Noi passiamo da chi dopo un rigore smette di giocare a calcio, da una squadra che quando è in difficoltà dopo il 2-1 si scioglie come cacca al sole, ha una squadra che ribalta un 3-0 che non c'aveva neanche bisogno, è lì la differenza, non mi farete mai dire che l'Inter come uomini è più forte del Milan, mai. Però l'Inter è più squadra, ha più fame, è compatta, hanno un'unione di intenti che non abbiamo. Loro lottano sempre su tutti i palloni, sono grintosi. Noi ci perdiamo, noi appena sbagliamo qualcosa ci cacchiamo addosso. Questa è la differenza, questo è essere squadra, volerlo a tutti i costi, dire no, non ci sto a perdere 3-0 e la ribaltano. Questo è avere orgoglio, quello che non stiamo avendo noi adesso. Raga, volevo fare un sciopero del tifoso, però è giusto metterci la faccia perché non sarei venuto manco a fare gli sfottò se finiva 3-0. Perché che cazzo vuoi sfottere? Sempre Forza Milan, iscrivetevi al canale e tanti pollici in su e benzi nero.